Buongiorno, sono Michele Santovito, fondatore e amministratore delegato di ITES, start-up innovativa che da tre anni, con il supporto dell'incubatore V3T dell'Università di Torino, lavoriamo per sviluppare un sistema innovativo nell'accumulo dell'energia termica, un sistema che va in abbinamento a tutte le fonti rinnovabili, dal solare termico al fotovoltaico alle pompe di calore, con l'obiettivo ultimo di favorire una transizione energetica decisamente più sostenibile. In quanto start-up, tra le nostre attività c'è quella di ricerca capitali e il bando innometro, appena pubblicato da Città Metropolitana, ci sembra estremamente interessante per questa sua formula innovativa che ci vede coinvolti sia come fornitori di tecnologia innovativa, sia come fruitori del bando stesso, quindi di capitali per finanziare il nostro sviluppo, per cui ci siamo messi fin da subito al lavoro per capire come sfruttare al massimo questo beneficio.